Un caro saluto dalla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale dell'Assemblea di Dio in Italia di Rimini. Salutiamo tutti gli amici, tutti i credenti che ci seguono sui nostri canali social. Vogliamo innanzitutto ringraziare il Signore per questo anno che si sta concludendo, per come il Signore è stato fedele, ci ha sostenuti, ci ha aiutati e ci ha dato grazie di portare avanti anche questo servizio. Abbiamo piena fiducia che egli continuerà a farlo anche nel prossimo futuro. Un caro abbraccio, Dio vi benedica tanto da Daniele e da Luisa. Buon 2023. Come gruppo social vi ringraziamo per averci seguito da tutta la comunità di Rimini. Buon anno, Dio vi benedica.